hanno spazzato via le supposizioni giornalistiche, cioè qualcosa che non sappiamo su che dati è fondato spazza via supposizioni giornalistiche. Ora io sono, devo dire, abbastanza in ritardo dal fatto che tra le supposizioni giornalistiche qualcuno potrebbe pensare che stanno e li vado a elencare la tela del ragno, trame atlantiche, dossier delitto moro, la prigione fantasma, le iddi di marzo, il mio sangue ricadrà su di loro, la sfinge delle brigate rosse, il copo di stato, coro in vergenze parallele e il fatto di umiltà, cioè i libri prodotti in 37 anni dal senatore Sergio Flamini. E qui entriamo nel vivo sul libro e il significato che ha, in un contesto, avvene lenato da un rumore di cui questo articolo è soltanto un esempio. Ma chiunque abbia pazienza, e secondo me sarebbe anche un interessante lavoro di tesi, per esempio, lavorare sulla diffusione delle notizie, il percorso che hanno, le fonti, la tempistica, anche le ondate, la maniera in cui l'informazione viene gestita, per perpetuare questo rumore che impedisce che si arrivi adunque sulla verità del caso moro. Questo libro, che completa il percorso dei precedenti, al tempo stesso, io trovo notevole che uno studioso, che adesso ha 89 anni, abbia prodotto un nuovo libro e questo libro innova rispetto alla sua produzione precedente, cioè è molto facile per una persona anche che ha la statura e l'autorevolezza di Flamini su questo tema, rifriggere la minestra. Invece questo libro, per esempio, dà conto ai lettori che hanno voluto occuparsi della vicenda anche delle ultime notizie emerse, sia nelle varie sedi giudiziarie, nelle commissioni parlamentari di inchiesta, ma anche a recenti pubblicazioni, tra cui un volume a cui si fa spesso riferimento, in cui viene fatto, diversamente da quanto hanno fatto giornalisti e pseudoricercatori, per esempio una persona è andata a fare un lavoro di ricerca certosino presso il Catasto, l'ufficio registro degli autoveicoli e da questa fotografia, invece di fare una ricostruzione in 3D su dati ignoti, è andata a vedere a chi appartenevano tutte le macchine che comparivano nelle fotografie e a chi erano intestati gli immobili nel secondario e ha ricavato dei risultati molto interessanti che Flamini ha incrociato con informazioni già in possesso delle commissioni parlamentari e della magistratura. Per cui il primo insegnamento a livello di metodo che ci dà sempre Flamini è si continua e si approfondisce la ricerca e ci si attinge a tutte le fonti, purché sia documentale. E poi quando si produce qualcosa questo libro mette in condizione chiunque poi di andare a sua volta a verificare, controllare, anche confrontare quello che sostiene Flamini con i propri dubbi e le proprie convinzioni. Questo è il contrario del rumore, questo accresce il sapere democratico a disposizione dei cittadini e dei ricercatori. Per l'essere fatto in questo modo e venire dopo tutti i libri che ho elencato, quest'ultimo libro di Sartre Flamini rappresenta una pietra all'incianto. Cioè la funzione che lui svolge e accanto a lui ci sono altre persone che hanno lavorato, ho già menzionato Gotor, ma qui per esempio c'è Francesco Biscione, poi potrei menzionare anche Giuseppe De Luttis che ha lavorato molto sui servizi segreti e anche i possibili collegamenti internazionali della vicenda Moro. Ci sono state tante persone che hanno unito le più varie competenze per cercare di accrescere questo patrimonio di verità e ampliare la precisione della ricostruzione che abbiamo della strage di Biafani, dei 55 giorni e della fine del delitto Moro. Tutte queste persone e molte altre, incluso il magistrato Ciampoli che è stato l'ultimo in sede giudiziaria a occuparsi di questa vicenda, riconoscono un fatto inquietante che è uno dei motivi per cui c'è così tanta pubblica ristinazione a voler chiudere il caso Moro. Il caso Moro non è chiuso e ci sono delle cose cruciali che non si sanno. Sergio Flamini, con grande correttezza, io ve lo vado a leggere, esordisce nell'introduzione del libro la prima cosa, ci ricorda le cose che purtroppo dobbiamo riconoscere che non si sanno, anche per dare l'idea della gravità delle lacune, cioè non mancano degli elementi secondari. Noi non conosciamo il numero e l'identità dei killer presenti in Biafani la mattina del 16 marzo 1978. Ora, essendo un fatto che viene riconosciuto come una cesura epocale nella storia dell'Italia repubblicana, il fatto che non si sappia con esattezza l'identità di tutti gli sparatori presenti, non solo, una cosa che apprenderete leggendo questo libro è che non si conosce in particolare l'identità del killer che ha distrigato la maggiore e la preferenza di fuoco quella mattina, è un fatto di gravità straordinaria. Poi non sappiamo il luogo dove avvenne il trasbordo del rapito Aldo Moro subito dopo la strage, prima che l'auto fosse abbandonata in via Decino Calvo, i luoghi dove avvenne tenuto prigioniero a Moro durante 55 giorni del sequestro. Non si sa con certezza, dopo vediamo perché si è consolidata questa vulgata di via Montalcini, qui vuole raggiungere una chiosa, oltre all'attività della disseminazione di notizie verosimili, più o meno falsificate eccetera, non dimentichiamoci che il cinema e la fiction hanno avuto un ruolo fondamentale, quindi su un film come Buongiorno Notte che è basato sulle memorie della Bravetti hanno consolidato l'immaginario che ora è stato in via Montalcini. Questo genere di persuasione, queste sono le cose su cui si plasma poi l'immaginario collettivo, l'opinione pubblica, tu vedi una cosa, è come quando nei servizi del telegiornale ti fanno vedere dei posti e poi anche se la voce dice qualcosa di diverso, tu rimani come impressionato e è una forma di persuasione occulta molto efficace. Poi, non sappiamo di quale apparato di sicurezza fu la regia dell'operazione congiunta del 18 aprile 78, cioè comunicato falso del lago della Dupessa e scoperta del cubo di via Gradoli, cioè una specie di prova generale, vediamo come reagisce l'opinione pubblica alla notizia che è stato trovato il cadavere di Moro, tutto falso. Non si sa con esattezza in quale luogo venne ucciso Moro la mattina del 9 maggio e poi non si sa perché il corpo del prigioniero venne abbandonato nel centro di Roma, in via Caetani, nei presse del ghetto ebraico. Poi non si sa perché i terroristi censurarono le gravi rivelazioni fatte da Moro durante la prigionia. Le mirigate rosse doveva essere un processo popolare, avrebbero dovuto rivelare tutto, non l'hanno fatto. E la qualità delle informazioni occultate, sebbene noi non conosciamo il memoriale nella sua interezza, già solo sulla base del ritrovamento parziale del 90 abbiamo avuto, come dire, un profumo, un sapore del genere di informazioni che sono state nascoste, prova fondamentalmente che riguardava Gladio. Ora, chiunque vede un pubblico abbastanza maturo, tutti possono avere un'idea di quanto sarebbe stato dirompente se al popolo fosse veramente stata comunicata quel genere di documentazione e di informazione. Andiamo avanti. Non sappiamo cosa conteneva da parte del memoriale Moroteo che risulta ancora mancante, non sappiamo dove sono gli scritti originali di Moro, le registrazioni audio dei suoi interrogatori, non sappiamo nemmeno, qui parliamo di documentazione invece statuale, dove sono finiti i verbali gli appunti del Comitato Ministeriale per le Informazioni e la Sicurezza e quelli del Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza e dei Comitati di Crisi che si riunivano al Vininale. Perché non vennero verbalizzati tutti i documenti trovati nel 90 nel proprio di via Montenevoso? Non hanno fatto una cosa, hanno portato fuori le carte, questo ha dato adito a una pluralità di narrazioni da parte dei carabinieri su queste carte portate fuori in particolare eccetera, ma non essendoci un verbale, normalmente si segna la prima parola e l'ultima di ogni foglio trovato per avere la certezza, mancanza di quello, perché dalla Chiesa non puoi fare questa cosa? Adesso siamo tutti in balia del quale ruolo ebbero la struttura Gladio e gli apparati della Nato durante il sequestro, quale documentazione è presente negli archivi dei servizi di sicurezza sui viaggi a Parigi di Mario Moretti all'epoca capo delle Brigate Rosse, quindi la persona che avuto la responsabilità più importante della gestione del sequestro e l'uccisione di Moretti e sui traffici di anni da parte del capo terrorista e di altri appartenenti alle BR. E poi non sappiamo quali collegamenti internazionali e ingerenze estremiere ebbero a parte nella vicenda Moro. Ora io ho perso un po' di tempo a leggere questa pagina, ma è la premessa, altrimenti io non posso parlare di questo libro senza dire che il libro parte riconoscendo queste lacune e non altro grazie di dire rispondo a tutto. Fa un'altra cosa, dice, provo a fare il punto. La tesi fondamentale di questo libro, da cui viene il titolo Fatto di omertà, che è un'espressione viene citata in eserco che è stata utilizzata da chi è stato a lungo presidente della commissione strage in Italia Giovanni Pellegrino, dice esiste un patto di omertà che lega bregatisti, centro dirigente e istituzioni. Qui forse è opportuno dire parte delle istituzioni, parte del centro dirigente e anche parte dei bregatisti, perché qui in sala è presente Franceschini che ha avuto un atteggiamento completamente diverso nel racconto rispetto all'esperienza di quegli anni e anche alla riflessione critica rispetto a che cosa è accaduto, che cosa sono state le BR da un certo punto in poi e quali sono stati i punti di interferenza possibili. Per cui è molto importante, come quando si parla dei servizi e delle interferenze straniere, pensare che nessun organismo è monolitico e questa complessità i libri di Flaminia la restituiscono molto bene, perché lui tendenzialmente, diversamente dagli articolacci di giornale, precisa sempre bene di chi si parla. Comunque esiste questo patto di omertà e ormai oggetto del patto di omertà è una ricostruzione completa veritiera del caso Moro, in cui trovino risposta a tutti quei quesiti. Quella è la cosa da tenere sepolta. Al posto della verità, alcune figure chiave delle due parti che erano poste, cioè bregate rossestato, si sono alleate nella menzogna, per dirla proprio semplice. Tra le figure chiave potremmo menzionare, viene bene illustrato nel libro sui due fronti opposti, Moretti e Morucci dalla parte delle bregate rosse, così che Andreotti come esponenti cruciali della democrazia cristiana, all'epoca Presidente del Consiglio e Ministero dell'Interno. Vorrei ricordare una battuta del sociologo Giovanni Moro, che anche lui è un fine pensatore, ricercatore, oltre che essere figlio di Aldo Moro, che dice che in qualunque altro paese il Ministro dell'Interno, al tempo dei 55 giorni, dopo un fallimento di quel genere, si sarebbe ritirato a coltivare le rose. Cossiga, poco tempo dopo, non solo ha avuto la Presidenza del Consiglio, ma è stato eletto Presidente della Repubblica. Quindi non si tratta di essere